Salve a tutti quanti, io sono Terrenas e benvenuti all'analisi della patch 8.19 e questo è un po' strano perché di solito la patch 8.19, l'analisi della patch 8.19 esce il giorno dopo oggi ho voluto provare qualcosa di diverso, quindi faremo l'analisi da patch adesso che esce su YouTube immediatamente poi dopo questa analisi patch che faccio in solitaria ci sarà la discussione con Roberto su Twitch, twitch.tv slash Terrenas quindi venite a trovarci perché dopo saremo live, subito dopo questo video e poi domani usciranno alle patch veloci per chi arriva domani alle 2, torna a casa e dice ma che cazzo è successo su League of Legends oggi? Versione veloce questa è l'idea, poi ditemi nei commenti se vi piace come idea, se va bene, non va bene, eccetera, eccetera, eccetera ma andiamo ad analizzare, Darius, danni base a W aumentati, penetrazione armatura della E aumentata il colpo mutilante ottiene un 10% di attacco fisico totale in più di scaling l'arresto invece sono 5% di armatura in più, penetrazione armatura passiva ad ogni livello della E carini come buff sono principalmente mirati 1 al fatto che ai mondiali lo vogliono vedere giocato 2 lo vogliono vedere giocato come un campione dedicato per abbattere tank attualmente Toplane è letteralmente abitata totalmente da tank quindi avere una soluzione alternativa è qualcosa che Riot vuole a tutti i costi ma andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti Fiora, guarigione delle attivazioni della passiva aumentata guarigione sul punto vitale sale di 10 nei primi livelli poi scala nel tempo finché non scala nei livelli finché non arriva fino a un massimo di 110 al livello 18 e hanno fixato un bug sull'attacco repentino che torna a dare priorità a campioni in attivazioni vitali piuttosto che ai minion che possono essere uccisi interessante non so se definirlo bug perché era un ruolo di tocchino che avevano fatto apposta il fatto che abbia più sustain in early Fiora vuol dire di nuovo sempre buff mirato ai mondiali la patch 8.19 è infatti quella su cui giocheranno i mondiali è interessante l'idea per un motivo molto semplice perché dare più sustain a un campione duellante vuol dire dargli maggiore possibilità di avere più spazio su una corsia che letteralmente non le permette di avere spazio perché basta la minima pressione del jungler per vedersi fottuti totalmente soprattutto con Fiora che è uno di quei campioni che fatica in early ma poi diventa un mostro Kha'Zix, danni della passiva aumentati, rallentamento della W aumentato quindi rapporto sull'attacco fisico bonus, sulla minaccia celata aumentato spina del vuoto è voluta cosa succede? Da non isolato a isolato aumenta il rallentamento l'idea dovrebbe essere questa è in pratica dalla 8.11 Kha'Zix era diventato totalmente inutile vogliono che comunque risulti di impatto vogliono comunque buffarlo per i mondiali perché c'è la skin nuova detta proprio brutale brutale sono cose carine più che altro il buff alla passiva è un'ottima cosa considerato quello che è stato il nerf la lama del crepuscolare di Dractar che la stavo per chiamare crama del crepuscolare di Cractar potremmo cambiarla questo nome? è fichissimo la passiva della minaccia celata quindi ha uno skilling duplicato letteralmente con l'attacco fisico bonus se tipo ottenevi facciamo un esempio pratico longsword una lama una spada semplice spada lunga ti dà 10 attack damage ottenevi 2 danni in più sulla passiva adesso ne ottieni 4 danni in più non è poco perché se vai a fare la somma di tutte le sorgenti di attacco fisico diventa bella potente come cosa il fatto che l'abbiano duplicato oltretutto è letteralmente il doppio che voi dite da 0.2 a 0.4 è il doppio non è poco anzi se non bolla un casix diventa un enorme minaccia e al messo dai un motivo per rallentare le spine per evolvere le spine del vuoto erano letteralmente ignorate ormai finalmente e il rallentamento era l'unica cosa che effettivamente traevi in più dal fatto di evolvere le spine del vuoto adesso almeno le userai in teoria ricarica W ed è diminuita in forma arachnide quindi vogliono premiare un attimo quella che è stata quella che è la forma un po' più non ignorata un po' sottovalutata e un po' troppo nerfata nel tempo di Elise la forma ragno la furia chitinosa ha un tempo di ricarica ridotto di 2 secondi e la calata ha un tempo di ricarica ridotto di 4 secondi durante le fasi iniziali partita quindi vuol dire più dive maggiore clear in giungla più possibilità di muoversi all'interno della mappa nei primi livelli prima di magari fare dei dive dei gang e dell'aggressione eccetera eccetera l'idea in generale è permettere a Elise di avere più pressione sulla mappa avendo più spesso le sue risorse lei doveva spesso e volentieri aspettare i suoi cooldown vuol dire che erano tanti secondi sprecati nel tempo nella giungla e non lo so secondo me può fare la differenza ma non è quello il problema sai quando letteralmente ogni campione fa più danno di te quello è un problema e non piccolo Jarvan ricarica della passiva diminuita che poi spoiler verrà anche fatto un aggiornamento effetto sonoro ai grafici ma dopo ne parliamo cadenza marziale ora un effetto grafico che indica la sua ricarica per bersaglio questa è la cosa più figa perché puoi effettivamente vedere quando puoi colpire un bersaglio con la cadenza marziale grazie e il fatto che il tempo di ricarica per bersaglio è stato abbassato a 6 secondi a tutti i livelli è enorme vuol dire che è il 40% di tempo in meno che devi aspettare a confronto ai primi livelli cioè da livello 1 a livello 6 devi aspettare il 40% in meno puoi fare molti più trade puoi essere molto più aggressivo in fase di corsia puoi essere molto più veloce a pulire i campi della giungla qui se vuoi usarli in giungla la possibilità di team attora funziona sempre quando colpisci un bersaglio con cadenza marziale ah è figa dici poco cazzo questi sono bei buff figo molto molto bello brava Riot Nuno e Willamp purtroppo Nuno per quanto sia divertentissimo da giocare attualmente è molto molto debole ehm allora consumazione potere ma scaling rapporto guarigione con il potere magico aumentato ora il tool tip riflette accuratamente la guarigione ottenuta mh ok rapporto potere magico massimo con 9 palle assegne di 0.54 potere magico e turno di Willamp cioè danni da immobilizzazione è aumentato a 0.5 e 0.8 l'idea dovrebbe essere quella di farlo buildare un po' più a P e non non viene totalmente ignorato letteralmente non lo stanno ignorando in competitivo perché è la W è tro è maledettamente lenta è fighissima l'idea di base tutto il kit è veramente figo ma è così facilmente leggibile che lo rende cioè se vai full a P e hai successo non ottenevi questo grandissimo successo se vai full tank sai che fa praticamente un meme in pratica l'idea è questa spingiamolo verso l'essere un mago per almeno renderlo utile sotto questa forma che può funzionare eh assolutamente però fino a una certa Gianna conversione velocità di movimento di danni da passione aumentata è tipo eh ok sì fai più danno con la tua passiva e sì ma il problema che qua dico non riesci a trovare il suo posto in corsi inferiore in un meta dominato e le sue controparti più robuste è proprio quello il problema di Gianna letteralmente come fai a giocare una corsia con letteralmente Brom Tahm Kench e Alistar come principali pick voi direte eh ma alcuni di questi di counter li sa gestire non vuol dire che sia forte contro di loro se poi Brom arriva in fight e fa un lavoro migliore di te e tu esplodi in fight allora non cambia un cazzo devi avere impatto durante la fase di corsia con Gianna un minimo un minimo perché almeno rallenti i tempi di corsia dell'avversario rallenti quindi i tempi di build rallenti i tempi della dichiaria avversario cioè una delle utilità di Gianna non è soltanto quella di essere quel campione fantastico da teamfight che è un disruptor che col tornado il monsone gli scudi riesce a mitigare molte delle possibilità di ingaggio o delle possibilità di trovare successo in una kill semplicemente sei là che guardi dici boh ok raga in fase di corsia ti distruggono adesso un po' meno però costo di mano in a Q e ricarica iniziali a 2 minuti questo è carino il costo di mano in di 8 e 20 vuol dire che puoi utilizzarlo più spesso e il fatto che il costo di tempo di ricarica si è ridotto di 4 secondi a livello 1 è enorme cioè prima dovevi aspettare il livello 9 per avere la Q al terzo livello e quindi avere 16 secondi di cooldown ora basta un singolo livello puoi andare poi di flay con il max di E o di lanterna se necessario è molto figo non serve quasi mai il max di lanterna spoiler è molto figo come buff mi piace un sacco sono proprio contento perché Trash è uno di quei campioni divertenti da guardare non giocarci contro ma da guardare Pyke danni iniziali da Supremo aumentati sincero hanno letteralmente rimosso questo questo hanno letteralmente rimosso un nerf che avevano fatto perché? perché farlo nel primo perché farlo allora? boh mi ha lasciato abbastanza interdetto che poi torni al pareggio a livello 11 praticamente torni alla stessa situazione precedente quando arrivi a livello 11 che è qui però ok Tam Kench proprio vogliono distruggerlo proprio raga è la palla giocare Tam Kench e vedere Tam Kench basta Tam Kench gli hanno squartato la salute di base gli hanno aumentato la salute per livello ciao Tam Kench good luck good luck in eSports anzi perché letteralmente come lo giochi adesso? è molto più debole di prima cioè voi direte eh ma l'Aid Game avrà impatto ugualmente sì ma era forte perché era veramente stupido in lane adesso è bilanciato sia chiaro non sto dicendo che sia debole però a questo punto il competitivo lo guarda e dicono ma dovrei selezionarlo davvero verrà selezionato in alcune occasioni quasi sicuro però sarà molto più pericoloso giocarlo Kogmo velocità di movimento eh? no 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 cosa? gli hanno aumentato la velocità di movimento di 5 allora voi direte ma sono 5 di boob speed porca puttana per una di Kogmo è tipo la manna dal cielo no 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 raga no 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 è un'idea di merda è un'idea orre... allora non gli hanno voluto aumentare il danno ma gli hanno dato una maggiore possibilità di kaita ragazzi siete scemi? no 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 pazzi totalmente pazzi anche l'artiglieria vivente ha una gittata aumentata nei primi livelli no no sono scemi avrei preferito il buff che avevano in mente su PBE su PBE per chi non sapesse c'era un buff alla Q che riducevi di tanto le resistenze avversarie questo è enorme questo è follia io 5 di Moon Speed fanno così tanta differenza su una di Carey come Cogmo oh boia oh boia oh boia tormenti di Henry bruciatura PS massima di passione aumentata potere magico diminuito quindi diminuisce di 5 potere magico mannaggia che tristezza uh aumento di .5% dei punti salute massimo al secondo vuol dire che su un Chogat con... allora su un Chogat con 3.000 HP 3.000 HP 3.000 HP prima facevi con 1% erano 30 danni adesso ne fai 45 figa non è male eh no aspetta 3 si si 3 45 wow 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 non è nemmeno malvagio perché è ogni secondo non è male come buff oh god no rambola i mondiali no oh che bello rambola è di nuovo forte evviva lo banneranno sempre i mondiali o lo piccheranno sempre interessante però bello non lo sbilancia del tutto eh non è che diventa disgustosamente più forte questo oggetto però non ci sputi sopra tanto esiste l'elmo adattivo raga quindi letteralmente in un mondo in cui esiste l'elmo adattivo cos'è 20% di riduzione di danni nel tempo eh non è comunque sei comunque più forte di prima eh però wow si qua per chi non lo sapesse aggiornamenti effetti sonori grafici Jarvan Lissin e Veigar hanno avuto degli aggiornamenti grafici e sonori alle loro abilità tutte tutte sono fighissime e tipo io approvo in pieno e che le ho viste sul PBE Ve ha avuto tipo un paio di raffinamenti che non sono sincero non ho ben capito però vabbè effetto grafico di rallentamenti l'effetto grafico predefinito per il rallentamento di velocità del momento è stato aggiornato ah ok meglio il furto di barone il furto di barone nasce il messaggero olande drago ora viene celebrato con messaggi in chat e standard di annuncio bello mi piace con un sacco queste robe è tipo proprio fare la sega a una mano a una persona bravo l'hai rubato sei proprio forte mamma mia quanto sei figo adoro pagina in profilo in preparazione modifica le classificate 2019 al ritorno di clash spoiler sta funzionando hanno provato hanno fatto 5 test sul PBE per essere sicuri che a prova di casino è stato succederà un casino ugualmente almeno tutti pensano e sono convinto anche io un po' perché sottovalutano sempre quanta gente gioca per farvi capire per quello che è stato questa è la parte più folle cioè letteralmente sul in Europa in media ci sono all'incirca giorno più giorno meno un milione di giocatori connessi nell'arco di una giornata bene durante il clash erano tipo 6-7 milioni di persone cioè capite che letteralmente Riot passa da X a 7 volte tanto perché il clash è veramente figa come idea se riescono a farla funzionare sarà fighissimo però devono riuscirci e continuano a sottovalutare quanto la gente pensi possa io sono sicuro succederà un casino matchmaking draft normale inoltre preparazione questa è importante in preparazione classificata del 2019 stiamo effettuando una valutazione preliminare del matchmaking posizionale nel draft normale vuol dire che verrete abbinati in base alla posizione assegnata rispetto a una singola valutazione generale così facendo dovremo migliorare il matchmaking su tutti i fronti soprattutto nelle partite secondarie in quelle con auto riempimento stiamo anche testando il riempimento della posizione che dareà la mia posizione in pratica nella nuova stagione competitiva del 2019 che cosa succede? è molto molto semplice voi entrate e il gioco sa dove giocate e dipendentemente da dove giocate e dalla posizione che avete scelto e tutto vi darà un certo punteggio per quel ruolo che tu hai giocato e basta punto questo è quanto in pratica il sistema se tu giochi in a normal draft e tipo vuoi imparare la midlay non ti piazza contro un diamond se sei diamond in ranked ti piazza contro quello che è il giusto avversario per te è una delle cose che io più adoro in assoluto e sono proprio felice di vederlo ok aspetti i croma e i coni in arrivo casixi della stagione del 2018 una versione dorata delle croma 2012 13 14 15 16 17 dove è? ah no perché Ash c'era già dorata è vero è vero è vero e quindi ci saranno tutte le versioni dorate della croma e casixi stagione 2018 ha 24 croma aggiuntive una per ogni squadra dei mondiali e l'icona giacare 2018 c'era un evento punti ah oh carino ah per il per gli Asian Games per gli Asian Games figo si un'icona per quello comunque signori molto molto bello il tutto interessante come patch andremo ad analizzarla con Karen a breve ci vediamo in live su Twitch e se volete passare e fare l'abbonamento il sub passate pure a sostenere perché questo è uno dei modi migliori per sostenere quello che sto facendo in tutta la mia vita bella raga è un'icona per l'abbonamento